ciao anime belle oggi voglio parlarvi delle mie ultime scoperte o riscoperte prodotti straconsigliati cosmetici a prezzi equilibrati ragionevoli e due considerazioni voglio fare perché avrete notato che sono usciti dei brand nuovissimi escono brand come funghi magari crescessero funghi come i brand allora si troverebbero un sacco di funghi nei boschetti perché a me piace andare a funghi faccio questo paragone perché a me piace andare a funghi ma allora charlotte tilbury fa delle palette meravigliose make up by mario è uscito adesso sono bellissime io ho visto parecchi video di questi due brand ho anche una palette di charlotte tilbury ma poi quando ho tirato fuori questa io l'ho guardata mi è scappata da ridere perché ci sono tutte qua dentro tolgo la cartina che c'è dentro io sto parlando della Too Faced Born This Way The Natural Nude questa qui che io un po' che ho e utilizzo ve la faccio vedere allora io qua ci vedo una bellissima tante bellissime palette di charlotte tilbury ci vedo molti colori simili alla palette alle palette di make up by mario abbiamo dei shimmer brillanti dai rosa neutri caldi neutri freddi abbiamo un bianco bianco opaco bianco perlato rosa marroni cioè io io questa palette qua la trovo completa completa non so se anche voi chi chi ce l'ha mi dica mi dica che io ci tengo anche la cartina sopra per me è spettacolare riproduce tutte quelle palette di tutti quei brand che sono usciti adesso che secondo me messe insieme sono tutti uguali quindi chiudo sta parentesi blush io non è la prima volta che vi faccio vedere un prodotto di debbie costa 4 euro ma quanto è bello il blush allora questo è lo 04 plum lo trovate da più e me almeno io lo trovo lì è un colore splendido è un colore rosa malva al di sopra è intagliato tutta la scritta debbie ora non si fedra niente ma è un rosato che è il colore della mia maglietta più satu più più basso ecco più alleggerito è bellissimo ma bellissimo resta tutto il giorno si comporta bene datevi un'occhiata sbocciatevele sulle mani sono bellissimi 4 euro costano proprio belli mi è stata consigliata una crema viso per il giorno in realtà anche per la notte e non solo per il viso ma anche come contorno occhi ma io la utilizzo di giorno per il viso questa è la consigliata dalla mia dottoressa il medico di base è la rilastil elasticizzante una crema emolliente ed idratante non ci vedo con amminoacidi essenziali vitamine dna sodico ed è per pelli pelli e anche cicatrizzante per pelli sensibili è bella bella elasticità anche qui abbiamo 10.000 brand che ci promettono quello ci promettono quell'altro ma in realtà cioè basta idratare la pelle abbiamo già fatto tutto il miglior antirughe per la pelle è la protezione viso la protezione solare questa è una bellissima crema che può essere usata davvero per tutto il corpo anche come contorno occhi poi se non la volete usare come non la uso io ok però è idratante si assorbe bene non esce fuori dal trucco durante la giornata tiene bene il trucco un leggero profumo ma piacevole ma leggerissimo profumo elasticizza idrata questa è bella io ve la consiglio questa diventa low cost se presa online presa direttamente nel negozio io l'ho presa direttamente in farmacia perché la volevo subito però finita la riprendo online protezione viso usata strausata la sto finendo e la ricompro sicuramente è questa dell'svr spf 50 sun rescue questa è mousse cream optical blur allora cosa fa questa cremina qua un po' come tutti c'è charlotte tilbury che fa un primer blur con protezione 50 beh io trovo se non mi cade che questa probabilmente fa la stessa cosa però ha un prezzo decisamente diverso dell'svr io l'adoro perché allora sembra un pochetto pescata una volta che la stendete sembra spessa ma in realtà non lo è perché viene assorbita subito e vi da davvero un effetto blur piallante asciutto al viso è bellissima questa è la versione senza profumo c'è anche con la versione con profumo fa lo stesso fa lo stesso si asciuga potete dare sopra un primer idratante illuminante però ha già lei un bel effetto blur quindi piallante per i pori e se sopra ci volete dare due primer di quelli coi brillini si può è bella veramente ve la segno qui sotto nell'infobox perché a me piace tanto ho provato questi due prodotti di patica patica non so come si pronuncia che avevo preso in farmacia e mi sono innamorata questo è l'olio cleansing oil io di questo devo farne tre pusciate e poi lo massaggio sul viso risulta un pochino densino ma si spalma bene scioglie le impurità si può anche sciacquare con l'acqua perché diventa un latte però trovo che venga via meglio con un panno il profumo cioè il profumo mi ha stregata lo stesso profumo ce l'ha il tonico ma il tonico io questo tonico lo uso sul dischetto di cotone ma può essere anche utilizzato direttamente sulle mani tamponato è una lozione lattea idratante a base di aloe vera ha un profumo bellissimo lo so però fanno anche piacere i prodotti profumati e questo per me è buonissimo e poi lascia la pelle idratata morbida soffice è bellissimo sulla pelle questo prodotto veramente bello 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 mascara c'è un mascara che difficilmente cambierò è il Pupa Vamp Waterproof mi piace tantissimo ha uno scovolino bello paffuto fa delle ciglia belle drammatiche ora dirvi che non spezzette che non si appiccica qua e là ma direi una bugia però quello che salva tutti i mascara tutti i mascara almeno i miei mascara sui miei occhi sul mio volto sulla mia fisionomia è questo di MAC l'Extended Play Gigablush mascara perché le va proprio a impermeabilizzare le ciglia quindi fa sì che incolla il prodotto e non lo fa appiccicare o sopra o devo dire che qualche pezzettino ogni tanto lo vedo ma lo porto via col dito perché è un bellissimo mascara che infoltisce rende proprio le ciglia drammatiche mi piace proprio tanto pupa vamp io oggi ho finito con i miei prodotti scoperta del periodo consigliati spero di avervi dato qualche buona idea senza andarvi a svenare nelle nuovi prodotti usciti e stra virali che magari non vi danno invece soddisfazione a voi se vi è piaciuto il video spolliciate iscrivetevi al canale e una buona vita a tutti un bacione ciao